Ciao a tutti amici simmini, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Dada Sims e oggi nuovo video! Come potete vedere la sigla è diversa dal solito, perché ho deciso di portare una nuova tipologia di video. Io e delle mie amiche abbiamo creato un gruppo che si chiama Plumb of Land dove creiamo dei video, facciamo delle challenge e ci divertiamo un po'. Siamo tutte italiane di tutte le età e siamo tutte matte per The Sims e quindi abbiamo deciso di creare questo gruppo tutti insieme e di divertirci insieme. Oggi uscirà appunto il nostro primo video di collaborazione che si intitola Identikit Challenge. Allora, a parte che è bellissimo, è stupendo, ora cerco di farvi capire di cosa si tratta. Allora, in pratica dovevamo appunto dare un Identikit di un sim in una storia e poi creare quel sim, mandarlo a caso a una di noi. Per esempio, a me è arrivata questa Identikit bellissima, ora ve la leggo, e insieme andremo a creare questo sim e poi lo confronteremo con l'originale, cioè con quello che ha fatto la mia amica. Ora, intanto vi leggo il suo racconto che è stupendo. Allora, quella stanza sembrava gelida, sia di giorno sia di notte, come se non fossi mai stata toccata dal sole, neppure d'estate. Così decisi di cambiare le cose. Mi alzai dalla poltrona su cui ero seduta, girai la maniglia della porta senza esitare un solo istante e l'aprì. C'era un silenzio assordante all'interno, ma non ci badai troppo. Afferrai con sicurezza le tende, le spostai, apri i battenti della finestra e, come per magia, un raggio di sole entrò nella stanza, indicando un vecchio cestino che si intravedeva sotto il letto. L'ho presi e al suo interno ci trovai delle lettere ingiallite. Una di esse parlava di una bellissima donna dalla pelle rosa, alla quale era stata nascosta la sua natura vampiresca. Le avevano detto di essere un'incantatrice nata con una rara malattia che le prebiva di esporsi al sole, poiché i raggi l'avrebbero potuta uccidere. «Perché mentirle? Non era forse più semplice e giusto dirle la verità?» Il bussare contro il muro interruppe la lettura. Spostai lo sguardo e notai per la prima volta il ritratto di una bellissima donna. E se fosse lei la ragazza della lettera? Pensai, anche Madame Ella, la donna del ritratto, aveva la pelle di un rosa leggermente scuro, nei toni caldi, in concordia con il castano chiaro dei capelli. Era una giovane donna particolarmente affascinante, col viso d'angelo e lo sguardo da cerviatta, dipinto di un verde spento e il vestito, che si adagiava perfettamente sul suo fisico asciutto, la rendeva ancora più bella. Ma era triste. Questo è ciò che percepì guardandola. Le sue labbra carnose al punto giusto lo evidenziavano. «Fui colta da un brivido. Presi un'altra lettera. Questa volta era Ella a scrivere. Parlava d'amore. Di un amore che aveva scorto nel buio della sua stanza, dietro le tende nere, oltre i vetri della finestra. Se n'era innamorata perdutamente. Era la sua prima cotta. Come piasmarla? Il resto della lettera era imbrattata di aggettivi, emozioni e periodi d'amore, simili a quelli che si leggono nei romanzi. E molto probabilmente li leggeva, dato che nel ritratto ne aveva uno tra le mani. Sussultai. Qualcosa era accaduto nel salottino accanto. Con coraggio andai a vedere. La foto di Madame Ella e Lord Seth era caduta. La raccorsi e la sistemai sulla mensola del camino. Su di essa vi era appoggiato anche un dipinto, il quale portava la firma di Ella Laiana, in basso a destra. Non era l'unico. Ce n'erano altri nella stanza. Grazie. Grazie. Allora, questo... Ma anche gli occhi lucidi. Allora, questo racconto l'ha scritto Ilionor. Ora, io ragazzi, in descrizione vi metterò tutti i link dei canali YouTube, di tutte le mie amiche che partecipano a questa challenge. Tutte le mie amiche di cui fanno parte di questo... Vabbè, ciao. Tutte le mie amiche che ci sono nel gruppo. E niente, io direi di cominciare con questa challenge e di creare questa Ella, sperando di crearla il più possibile, simile all'originale, come ha fatto Ilionor. Incrociamo le dita, vediamo cosa ci esce. Stiamo nel casso. Io ho già messo nome e cognome, che in realtà non è il cognome Laiana, è il secondo nome, ma vabbè. Andiamo sui tratti. Io i tratti metterei comunque amore. Allegra, non direi. Romantica. Poi, amante dell'aria aperta, povera stella. Non può... Magari le piacerebbe anche. Non può, poverina. Ma non c'è la triste, ragazzi, da qualche parte. Solitaria, sì. Ci allegra perché non c'è triste. Non vorrei pessimista. Vabbè, facciamo pessimista, dai. Povera. Povera. Ok, allora, andiamo con il corpo. Rosa caldo. Il colorito era un rosa caldo. Io direi questo va più che bene. Viso. Mamma, ste orecchie, però. Facciamo un vampiro con le orecchie normali, no? No. Che appunto? Ce ne sarebbe accorta, no? Allora, il viso... Le labbra diceva che erano carnose. Io direi che così... Va bene. Magari ve le facciamo ancora un pochino più carnose. Mento. Mi piacerebbe così. Mettiamo le bocce assolutamente. No, non mi piace. Sì, così, carina. Naturalmente, ragazzi, poi voi fatemi sapere che ne pensate, eh. Anche di questa nuova tipologia di video che sto facendo, anzi, che stiamo facendo. Ah, una cosa, ragazzi. Io immagino che voi abbiate notato... Il caos dietro di me, il caos. Oh mio Dio, che brutto. Vi dico una cosa. Farò un video dove vi spiego... Io già ve l'avevo detto un mese fa. Vi avevo detto che avrei fatto un video dove appunto spiegavo un po'... Questo è il labbraio, poi li fa un po' più grosso. Dove spiegavo un po' quello che mi stava succedendo. E vi rassicuravo sul fatto che stavo bene. Però, alla fine non ho fatto più niente. Quindi... Vorrei farlo ancora quel video. Non vi preoccupate, ve lo faccio. Così vi spiego il caos che vedete. E anche un'altra cosina. Adesso non ve la dico. Surprise! Una cosina bella, però. Non lo so, c'è qualcosa che non mi quadra. Facciamo un riguaggio. È la più bella così. Però sembra tipo che ha il doppio merito. Vediamo un po' i capelli. Eh, smetti di fare la vampira. No, tu non sai di essere una vampira. Non fare la vampira. Oddio, no, non mi piace così. No, non mi piace. Mi piaceva prima. Ritorniamo indietro. Mi piaceva con i capelli raccolti. Tanto nella descrizione non diceva niente sui capelli raccogliano raccolti. Dicevo solo che erano castano chiaro. È un rossiccio, ma vabbè. Diciamo che è castano chiaro. Ok. Vediamo il trucco. Ah, gli occhi erano verdi. Gli occhi. Ehi, ehi, ehi. Verdi è spento. Questo. Mi piace. Direi che... No, non mi piace. Mettiamo lo speedcast perché altrimenti qua ci mettiamo diecimila anni. Intanto vado di speedcast, poi verso la fine... Carino così. Sì. Poi verso la fine magari ritorniamo insieme e vediamo il confronto con i sim. Sì. Sì. Grazie a tutti. 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 Vi faccio vedere gli abiti. Questo è quotidiano. Molto velocemente perché tanto avete visto lo street cast. Formali, sportivo, da notte, molto romantico, da festa, molto vampirisco. Costumi da bagno, che poverina, non lo vedrà mai di notte, dai, di notte ci può andare. Estivo, corpo intero ho messo il clima freddo, anche questo ho messo un corpo intero. Ok, io direi, questa quindi, ragazzi, è la mia Ella. Direi di andare a vedere quella che ha creato Eleanor. Allora, ragazzi, non poteva non succedere, ho avuto un problemino, praticamente il sim di Eleanor era stato creato con il gioco aggiornato. Il mio gioco non era aggiornato, quindi non me lo apriva. Quindi ho dovuto aggiornare il gioco, ci ho messo un'eternità per scaricare l'aggiornamento, perché internet va lentissimo. E quindi adesso, finalmente, posso finire il video. Ok, andiamo a vedere subito la simina di Eleanor. Mamma mia, ragazzi, chi sa, siete pronti? Paura! Paura! Pronti? Vai! Wow! È completamente diversa dalla mia! È proprio diversa! Allora... Bello però quest'abito, eh! Rosa, sportiva, proprio diversa! Non c'è secca niente! Manco il colore degli occhi! Zero porto zero, ragazzi! Ecco, di notte... Zero, ragazzi! Zero! Bello sto vestito che le ho messo, però, con gli orecchini, è bello, mi piace! Ok! Clima caldo! Eh, lei l'ha fatta un po' più seriosa, io l'ho fatta un po' più così! Vediamo i tratti! Allora, pittrice straordinaria... Eh, scusate, ragazzi, sentite un po' di rumori, ma qua ci sono i miei bambini che vanno in giro... A fare casino! A fare casino! Allora, pittrice straordinaria, e io proprio non sapevo fosse una pittrice, pensavo solo che le piacessero i quadri, magari... Vabbè! Poi, topo di biblioteca... No, non ce l'ho messo! Pestimista, ci abbiamo azzeccato! Romantica, ci abbiamo azzeccato! Riflessiva! Noi, ragazzi, abbiamo azzeccato due tratti! Dai, due su quattro non è male! E vabbè, quindi, dicevamo, questa è Ella, creata da Eleanor, questa è Ella, creata da me! È proprio diversa! Vabbè, ragazzi, io comunque mi sono divertita! È stata una bellissima challenge, secondo me! Non vedo l'ora di vedere i video delle altre ragazze, qualcuno è già uscito, qualcun altro sta per uscire, vi lascio in descrizione tutti gli orari, con tutti i nomi e i link dei canali delle mie amiche, così li potete andare a vedere! E, niente, io per ora vi saluto e vi mando un bacione ciccione e ci vediamo alla prossima! Spero il prima possibile di riuscire a farvi quel video che vi dicevo prima, dove vi racconto un po' di cosine e vi spiego tutto questo caos che c'è intorno a me e dietro di me! E, niente, vi auguro una buona giornata, un buon weekend! Ciao da te da sì! Ciao!